Ad Agrigento domani sera giovedì 29 agosto alle ore 18.30 presso gli studi di Teleacras si svolgerà il quinto e ultimo incontro nell'ambito della terza edizione della rassegna letteraria Contemporanea, la letteratura in tv. Interverranno Stefania Auci e Antonio Mandracchia che presenteranno l'antologia Cronache Vere, Souvenir d'Italie. Conduce Gero Miciche affiancato dallo staff di Contemporanea con Benemino Biondi, Loris Magro, Antonio Pancamo Puglia e Dario Piparo A leggere alcuni brani sarà l'attore agrigentino Giuseppe Innocente. L'incontro con gli autori sarà registrato da Teleacras e poi trasmesso in onda. Altre informazioni scrivendo alla mail rassegnacontemporanea.com o consultando la pagina facebook ufficiale di Contemporanea Ascoltiamo in proposito lo stesso Gero Miciche, l'ha intervistato Gloria Scafè Contemporanea giunge a termine, domani ci sarà l'ultimo incontro si parlerà di antologia in studio Roberto Mandracchia e Stefania Auci Sì, siamo arrivati anche in questa edizione all'ultimo incontro ce l'abbiamo fatta, dovremmo farcela chiudere anche domani i presenti come hai detto tu saranno Roberto Mandracchia che è un autore agrigentino che molti conosceranno, ha già pubblicato un primo romanzo con Agenzia X e il secondo è in pubblicazione adesso con la casa editrice Baldini Castoldi Dalai, sarà pubblicato ai primi d'ottobre Stefania Auci è invece un'autrice di origine trapanese che pubblica per Mondadori invece. Ecco, entrambi sono accomunati dal fatto di aver pubblicato in questa antologia che si chiama Cronache Vere, souvenir d'Italie pubblicata dalla Piano B edizione e curata dall'Agenzia letteraria Vicolo Kenneri. Già l'anno scorso noi avevamo deciso di rompere un po' lo schema che vedeva sempre invitati magari i romanzi e sempre dedicarci ad altre forme di narrativa. Ecco, l'antologia e quindi i racconti e la narrazione breve è qualcosa che interessa molto sia a noi di l'Alef che diciamo abbiamo un po' cominciato con i racconti tutt'ora continuiamo a concentrarci sugli scrittori racconti sempre per esigenza e poi perché pensiamo che la narrazione breve sia diciamo una narrazione un po' sottovalutata in questo paese. Diceva Julio Cortazar che mentre il romanzo deve vincere la battaglia con il lettore ai punti il racconto deve vincere questa battaglia per knock out perché ha molto meno tempo per stordire il lettore. Ecco, quindi l'arte del racconto è un'arte che vogliamo sempre attenzionare. Questa antologia curata magistralmente dai bravissimi agenti di Vicolo Kenneri si concentra su, dal titolo si intuisce, casi di cronaca vera. Il riferimento al famoso magazine era chiaro ovviamente, c'è una bellissima prefazione proprio che spiega questo meccanismo e quasi diciamo ironicamente vuole valorizzare il meccanismo di cronaca vera che prendeva casi appunto di cronaca nera e li lanciava e annunciava in forma scandalistica. Ecco, questi 15 narratori, tutti narratori a livello nazionale, fanno proprio questa operazione, riprendono dei casi di cronaca e li rielaborano in forma narrativa. Questo hanno fatto i vari autori, fra cui c'era anche Tommaso Giagni che l'anno scorso è stato nostro ospite e Fabrizio Gabrielli che è un bravissimo scrittore che domani speriamo di avere anche in collegamento telefonico, così hanno fatto Roberto Mandracchia e Stefania Auci. Dunque, noi domani invitiamo il pubblico presso gli studi di Teleacras alle 18 e 30, dove speriamo di fare un grande incontro di chiusura, pieno di ospiti, speriamo di bei momenti e quindi di presentare un'antologia che noi reputiamo valga veramente la pena valorizzare e poi abbiamo anche uno scrittore nostrano, agrigentino, e quindi ci pare una buona scusa anche per essere presenti. Vi aspettiamo quindi domani, 29 agosto, presso gli studi di Teleacras alle 18 e 30 per l'incontro con cronaca e vera e chiusura della terza edizione di Contemporanea.